Nuova puntata di Gentleman Driver TV in onda dal primo marzo come sempre alle ore 22.55 Con Cristiano Luzzago in Maserati Merak 3000 A Retromobile la firma del manifesto tra FIVA, FIA e FIM Dakar Classic il secondo speciale dedicato alla gara da vivere all'insegna dell'adrenalina Ricordate Gentleman Driver TV è visibile in tutta Italia su canale Sky 229, su TVSAT canale MS Sport, sulla nuova piattaforma web e app MS Plus e su tutte le piattaforme web di Adrenaline 24H Grazie a tutti